Gli studenti delle superiori entreranno a scuola dalle 8 alle 10 con orari differenziati e usciranno dalle 13 alle 15. È quanto deciso oggi in prefettura a Como dal tavolo di coordinamento istituito dal DPCM del 3 dicembre per organizzare i trasporti pubblici e l'attività scolastica delle superiori a partire dal 7 gennaio. Ai dirigenti delle scuole superiori va riconosciuto un grande senso di responsabilità e una fattiva collaborazione nel riorganizzare ex novo e in tempi brevi la didattica e il servizio scolastico nonostante le oggettive difficoltà e complessità scrive Marco Fassino dirigente del provveditorato agli studi regionale. L'intesa generale prevede la turnazione degli ingressi in entrata e in uscita dal lunedì al venerdì con orari scaglionati dalle 8 alle 10 del mattino e uscite comprese tra le 13 e le 15 per evitare assembramenti, garantire il rientro in aula in sicurezza e tutelare la salute e ridurre quanto più possibile ulteriori disagi a studenti e famiglie. Al contempo l'ufficio scolastico regionale ha coordinato dirigenti e azienda dei trasporti per ridefinire un piano di corsi e di orari di reale supporto al nuovo assetto della didattica.